Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al Consetto Appuntamento con il Tg10, l'apertura del nostro telegiornale oggi è dedicata alla sanità, questa mattina ha tracciato il bilancio di un anno di attività, vediamo. Tracciato il bilancio delle attività dell'ASP2 di Caltanissetta relative a questo 2015 che sta per concludersi, il top manager Carmelo Iacono rendi conto sull'azione svolta dalla direzione strategica aziendale sul distretto di competenza. Dieci mesi non sono un tempo eccessivamente lungo perché prima è necessario rendersi conto di quelle che sono le criticità che ci sono e poi bisogna trovare delle soluzioni. Però devo dire che col consuntivo che noi abbiamo portato oggi io sono estremamente soddisfatto di ciò che abbiamo realizzato perché abbiamo dato, ritengo, delle risposte importanti. Fermo restando che criticità ce ne sono ancora tante e che vanno risolte, però le cose più importanti, più grosse, più eclatanti secondo me hanno già avuto una risposta. Ad esempio nell'organizzazione del pronto soccorso con l'attivazione degli ambulatori dei codici bianchi, con la dotazione di lette barello per il pronto soccorso o con la dotazione di letti elettrici per i reparti dove c'erano dei letti obsoleti e i pazienti cadevano a terra. Ma non solo, anche dal punto di vista strutturale, la riapertura del quarto piano con la riallocazione dell'ortopedia ci ha consentito di offrire all'utenza altri 40 posti letto per la degenza. Era assurdo avere un reparto chiuso e avere pazienti che non riuscirono a ricoverarsi perché non trovavano il posto letto. Nei posti lasciati liberi dall'ortopedia a pomeriggio si trasferirà la chirurgia e scivolerà la chirurgia dando anche dei locali ad una struttura che è una struttura fortemente evoluta da questo territorio che è la Breast Unit e dando anche spazi ad altri reparti importanti come l'Urologia, l'Otorino che avranno una loro allocazione. Abbiamo aperto una nuova ala che sono i locali dell'ex direzione sanitaria dove abbiamo allocato i talassemici. Allora questi sono dei fatti strutturali che sono fatti estremamente importanti per non dire anche di tutte le attrezzature che abbiamo comperato. Ne cito una sola ad esempio che è quello dell'ecografo per l'ecografia morfologica alla divisione di ostetricia. Cioè era assurdo che in una struttura dove vi è un altro rischio ambientale, quindi il rischio di malformazione, non si potesse fare un'ecografia morfologica che è proprio specifica per andare a vedere le malformazioni già nel grembo della mamma. Siamo alla cronaca, beni per un valore di alcune centinaia di migliaia di euro sono stati confiscati dalla polizia ad un elemento di spicco di Cosa Nostra, di Niscemi. Si tratta di Giancarlo Maria Giugno, 57 anni, attualmente detenuto. Gli uomini della divisione della Polizia Anticrimine della Questura di Caltanissetta hanno eseguito un decreto emesso lo scorso 16 dicembre dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta. I beni erano stati sequestrati il 24 giugno del 2013. Sotto chiave sono finiti i fabbricati e i automezzi. Giugno è stato più volte arrestato per associazione mafiosa, estorsioni, omicidio e danneggiamenti vari con l'aggravante di avere fatto parte dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra con il compito di avere promosso diretto e organizzato l'associazione stessa. Lo stesso Giugno è stato più volte condannato a numerosi anni di reclusione. CGL, Cisle e Will ricorderanno l'anno 2015 come l'anno della trincea nel quale è stato complicato dare risposte concrete ad un mondo del lavoro sempre più precario. Basti pensare al settore dell'industria dove per fortuna resistono gli ammortizzatori sociali che evitano i licenziamenti ma certamente non risolvono i drammi occupazionali precari della scuola e lo sconvolgimento dell'idea democratica che dovrebbe appartenere al luogo dei saperi, l'azzeramento dell'industria tessile, la scomparsa della grande distribuzione, l'indebolimento e il tentativo di cancellare presidi sanitari storici esistenti da Mazzarino a Mussomeli e le lunghe liste d'attesa delle due aziende ospedaliere esistenti e cioè il Vittorio Emanuele di Gele e il Sant'Elia di Caltanissette. Inoltre in termini di vivibilità, l'impercorribilità di tutte le strade in direzione dei paesini del vallone della provincia, il grande tema della sicurezza negli edifici scolastici, l'importante e complessa riconversione dell'industria eni. E' questo il drammatico bilancio dell'anno che si sta chiudendo, delle sigle sindacali CGL e CISLEWILL che in un comunicato congiunto passano in rassegna gli aspetti salienti di questo anno che sta per concludersi. Così è evidente, non può andare, non deve andare, così la nostra provincia, più di altre dello stesso sud, è a rischio spopolamento per effetto di un nuovo e presente processo migratorio che non riguarda soltanto la scelta di tante giovani coppie ma anche di interi nuclei familiari, leggiamo ancora nel documento. La provincia di Caltanissette tra le nove ex province siciliane ha il più alto tasso di disoccupazione ed un livello di povertà dilagante. Anche in considerazione di tale certezza, le segreterie confederali rivendicano il diritto alla vita dei 22 comuni attraverso misure straordinarie che non significa soldi a pioggia, ma mirate ad un mondo delle imprese in difficoltà a tanti giovani con idee innovative ma privi di sostegno finanziario ed una reale e praticabile fiscalità di vantaggio, hanno dichiarato le sigle sindacali. Cerimonia di inaugurazione della seconda mostra dei presepi promossa dalla Proloco Gela con la collaborazione delle scuole si è tenuta sabato scorso a Palazzo di Città. Vediamo. Taglio del nastro sabato scorso per la seconda mostra di presepi allestita dalle scuole, infanzia, primaria e secondaria di primo grado promossa dalla Proloco Gela che trova spazio all'interno del Palazzo di Città. Don Giorgio Cilindrello, parroco della Chiesa San Francesca, ha benedetto l'iniziativa che potrà essere visitata gratuitamente fino al 6 gennaio prossimo dalle 10 alle 12 e 30 e dalle 17 alle 20 e 30. Presenti all'evento anche assessori, consiglieri comunali, il presidente dell'assise civica Alessandra Asce, il presidente dell'antiracket Renzo Caponetti, dirigenti scolastici e insegnanti. La cantante Anna Salsetta ha intrattenuto i numerosissimi ospiti interpretando brani natalizi. La Proloco è voluta essere presente e organizzare questa bellissima manifestazione perché secondo noi partire dalla parte più pulita, più bella della nostra città era importantissimo. Ecco perché l'importanza dei presepi fatta e organizzata alle scuole ha questo grande valore. Pensare che i bambini hanno costruito e sono impegnati sotto la grande maestria dei docenti per realizzare queste bellissime meraviglie, questo ci dà la speranza che è quella che noi vogliamo di una grande città futura. Avere i presepi dentro il comune, la città, la casa di tutti i gelesi è importante. Dei presepi fatti dai bambini, che è il futuro di questa città, sono dei messaggi importantissimi. A me il terzo, la natività, la rinascita, la possibilità di rinascita. Dopo una Pasqua pesante c'è sempre la possibilità di rinascere e Gela ne ha veramente bisogno. E' importante che Gela in modo coeso, unito, ritrovi quella sua identità per superare un momento che sicuramente non è tra i più brillanti e felici della sua storia. Ai visitatori è stato consegnato un grazioso cadò. Le degustazioni dolci e salate portano la firma del pasticcere Angelo Cassarino e del panificatore Michael Cassarino, artigiani locali che hanno sposato da tempo il progetto Proloco. La scuola Nicholas Green ha allestito un baby presepe vivente che ha riscosso un elevato apprezzamento del pubblico. Significativi temi trattati dalle scuole attraverso i presepi, immigrazione, rispetto dell'ambiente, giubileo della misericordia, eccellenze del territorio, forza evocativa delle tradizioni. L'accoglienza è stata curata dagli studenti dei corsi diurni e serale dell'Istituto Alberghiero Luigi Sturzo di Gela, diretto da Grazio Di Bartolo. Gli allievi sono coordinati dal professore Emiliano Sigona. La nostra scuola, Ettore Romagnoli, in particolare le classi seconda e terza I, abbiamo deciso di realizzare questo presepe creativo e attuale. Il tema di questo presepe è l'immigrazione, che come si può vedere la Sacra Famiglia è rappresentata come una famiglia di immigrati che tenta di scappare dalle guerre. Seconda edizione della giornata Sorridiamo, organizzata dalla classe accoglienza dell'Istituto Alberghiero di Gela, in collaborazione con ADMO e l'ospedale Vittorio Emanuele. C'eravamo anche noi, vediamo. Sono arrivati doni e sorrisi sabato scorso per la seconda edizione di Sorridiamo per i bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. L'evento è il risultato della collaborazione dell'Istituto Alberghiero Luigi Sturzo di Gela, diretto da Grazio Di Bartolo e ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo Sezione di Gela, presieduta da Giacomo Giurato, in collaborazione con il reparto di pediatria dell'ospedale, diretto dal dottore Rosario Caci. Sono stati consegnati gadget e doni preparati proprio dai ragazzi dell'accoglienza dell'Istituto Alberghiero, coordinati dal professore Emiliano Sigona. La finalità è quella di promuovere la donazione del midollo osseo. ADMO e l'Istituto Alberghiero di Gela hanno voluto regalare per il secondo anno consecutivo questo momento straordinario dei bambini ricoverati in pediatria. Un momento importante perché stacchiamo con la vita di tutti i giorni dei bambini ricoverati e gli regaliamo un sorriso. In un momento in cui la città sta attraversando un momento così particolarmente critico, regalare un sorriso, un abbraccio a questi bambini diventa un momento importante. E noi oggi l'abbiamo fatto, siamo orgogliosi e felici di averlo fatto assieme anche al Movimento Giovanile San Francesco che abbiamo trovato in reparto. E quindi è stato un momento di condivisione straordinaria. Abbiamo trovato la collaborazione dell'ASP, che ringrazio personalmente, dei medici, della caposala e soprattutto dei genitori dei bambini che hanno veramente condiviso con noi questo bel momento. Abbiamo regalato un sorriso, abbiamo dato dei pensierini, abbiamo anche regalato qualche caramella che ovviamente è stata vietata dai medici, ma era un segno importante. È stato regalato anche un bambino Gesù, offerto dal Movimento Giovanile San Francesco. E il messaggio che vogliamo lanciare è questo, doniamo un sorriso, doniamo degli abbracci perché daremo un senso alla nostra vita. Penso che l'esperienza più bella sia dare un sorriso ai bambini. E' un'altra cosa, i bambini molte volte non sanno che cosa significa allegria se non gliela porti tu dentro. Quindi tu gli devi dare un po' del tuo amore per fargli sentire qualcosa. Per noi è stata la prima esperienza, siamo stati accolti dai bambini in modo sorprendente e anche noi abbiamo portato a loro un pensierino regalando il bambino Gesù per augurargli un buon Natale. L'essenziale non è ciò che facciamo, ma come lo facciamo. Ogni giorno col cuore, la gioia, la passione, la competenza, l'entusiasmo, la condivisione, l'unione, l'allegria, la discrezione nella possibilità che sulle labbra di un bambino affiori un sorriso. Questo è il profondo messaggio della giornata. Infinitamente donna è la denominazione di una mostra che sarà allestita al Museo Archeologico Regionale di Gela su iniziativa del Soroptimist Club di Gela, preseduto da Maria Grazia Falconeri e curata dall'archeologo Angelo Mondo. Il taglio del nastro è previsto per domani alle ore 18. Saranno esposti i reperti archeologici esclusivamente al femminile, monili e statue catalogate dall'archeologo gelese che racconterà la condizione femminile del mondo greco. Commemorazione del centenario dalla scomparsa di un nostro concittadino nella Prima Guerra Mondiale. L'amministrazione comunale gli ha reso onore con una santa messa e la deposizione di una corona dall'oro. I particolari in questo servizio. E' stato commemorato sabato scorso il centenario della morte del tenente Giovanni Guccione caduto nella terza battaglia dell'Isonzo all'inizio della Prima Guerra Mondiale. Una messa in suo suffraggio è stata celebrata alla Chiesa San Francesco. Al termine della cerimonia religiosa gli astanti in corteo si sono mossi verso Corso Vittorio Emanuele e Piazza Martiri della Libertà in cui è stata deposta una corona dall'oro. Commemorare un eroe al di là dell'epopea, di ciò che si può dire di una persona, cosa ha fatto nella sua vita eccetera. Ciò che è importante è il simbolo che un eroe riesce a costruire e a dare alla città. Un eroe, noi ne abbiamo più di uno, come ci troviamo in una piazza che potremmo benissimo intitolare Piazza Medaglie d'Oro a questo punto. E' una piazza dove sono concentrate le nostre medaglie d'oro che danno lustro alla nostra città e dovrebbero far comprendere a ciascuno di noi che è una città che è capace nei momenti difficili di ritrovare la forza e di andare avanti. E' quello di cui oggi abbiamo bisogno. A cosa servono gli eroi? Gli eroi servono a questo, a indicarci la strada e che bisogna fare degli sforzi anche in mani se necessario per raggiungere gli obiettivi di rinascita della nostra comunità, anche se in quel caso, nel caso di Guccione, si parlava della nazione, dell'Italia. Si rinnova l'appuntamento annuale con il Gran Concerto di Natale, il mondo che vorrei, su iniziativa della FARC, coordinata da Angela Lobello in collaborazione con i giovani dell'Oratorio Salesiano. E' un'iniziativa culturale di socializzazione dedicata ai malati oncologici, alle loro famiglie e alla cittadinanza tutta per vivere insieme la magia natalizia. L'appuntamento è fissato per oggi alle 18 al Teatro Eschilo per un concerto all'insegna della solidarietà e della speranza, messaggi che l'associazione è impegnata a diffondere nell'agire quotidiano a favore dei pazienti oncologici in cura all'ospedale Vittorio Emanuele e delle loro famiglie. Il Natale nei presepi e nell'arte è il tema della mostra promossa dal Comitato di Quartiere Macchitella-Gela con il Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana Salvatore Zuppardo e il patrocino dell'Assessorata alla Cultura del Comune di Gela. Domani alle 19, inaugurazione presso il Centro Congressi di Macchitella, alla presenza del Sindaco Domenico Messinese e degli artisti che espongono La mostra rimarrà aperta fino a mercoledì 30 dicembre tutti i giorni dalle 16 alle 21. Si svolgerà questa sera alle 20 presso la Chiesa del Rosario il concerto di Natale eseguito dall'Orchestra di Fiati, Francesco Renda, diretta dal maestro Mirko Musco. L'evento è organizzato dal club service Kivanis di Gela, preseduto dal dottore Emanuele Salafia. In conclusione della prima parte del nostro telegiornale vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle 21 con 10 domande 10. Ospite del nostro direttore Giuseppe Donchia sarà Pino Valenti, presidente dell'Associazione Progetto H. Le repliche sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Festa natalizia alla Scuola Enrico Solito di Gela. Musica, canti e danze nella gioia della condivisione. Vediamo. Ancora gioia, sorrisi e preziosi momenti di condivisione all'Istituto Scolastico Enrico Solito di Gela. Vanno in scena gli alunni per uno spettacolo di commiato prima della pausa delle vacanze e natalizie. Musica, canto e coreografie per dirsi arrivederci al prossimo anno. Il dirigente scolastico Clizia Nobile. È il secondo anno che la nostra scuola Enrico Solito organizza questa festa. È la festa del saluto dei bambini di 5 anni alla scuola primaria e dei bambini della quinta classe della primaria che salutano le loro maestre. C'è il passaggio del testimone. È una grande festa. Con la scusa del Natale i bambini di 5 anni e delle classi quinte si incontrano per poter festeggiare insieme questo loro passaggio e dove i bambini più grandi chiaramente fanno una consegna importante. Si raccomandano di stare bene con le maestre che lasceranno loro perché quelle sono le maestre che loro avranno sempre nel loro cuore. Continuano le manifestazioni inserite nel cartellone natalizio promosso dal comune di Gela. Fino al 6 gennaio nei locali di Palazzo Ducale mostra dei presepi Vita di Gesù di Francesco Bonvissuto. Fino al 10 gennaio pattinaggio su ghiaccio, eventi, mostra di presepi, albero della vita nel piazzale della chiesa di San Rocco a Cantina Sociale. Sempre fino al 6 gennaio nel Palazzo Regina Margherita presepi artistici. Seconda mostra dei presepi, presepi in comune realizzata dalle scuole locali e promossa dall'associazione turistica Proloco Gela. Potrà essere visitata a Palazzo di Città fino al 6 gennaio. Previsti intrattenimento e degustazioni. L'ingresso è libero dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.30. La cerimonia di chiusura dell'evento è prevista per mercoledì 6 gennaio alle ore 17.30. Saranno aperte altre due porte sante nella diocesi di Piazza Armerina in occasione del Giubileo della Misericordia. Lo ha annunciato il Vescovo Monsignor Rosario Gisana a Gela il 6 gennaio presso la Piccola Casa della Misericordia e a Enna presso il Centro d'Accoglienza Santa Lucia. Inoltre si potranno ottenere le indulgenze giubilari anche in occasione dell'apertura in ogni vicariato della Porta della Carità, nelle cappelle delle carceri e degli ospedali presenti in diocesi e nei luoghi dove si terranno le catechesi sulle opere di misericordia corporali e spirituali. Continuano gli appuntamenti col grande Giazza al Teatro Comunale Eschilo di Gela venerdì 8 gennaio Francesco Buzzurro e venerdì 29 gennaio Fabio Concato. L'inizio degli eventi è previsto per le ore 21. Per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20. Per informazioni 0 933 911 892 oppure 345 5880 580. Stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela. Protagonisti degli eventi saranno Sergio Vespertino e Ernesto Maria Ponte, lasciate libero lo scarrozzo e Giuseppe Castiglia. Il botteghino rimarrà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30. Prossimo spettacolo il 13 gennaio con Sergio Vespertino. Adesso parliamo di sport calcio. Solo un punto separa il Gela dalla capolista sancataldese nel girone A del torneo di eccellenza. I biancazzurri, dopo il 3-0 rifilato sabato scorso in trasferta al Cus Palermo, si sono avvicinati alla vetta dopo la sconfitta subita dai nisseni in casa contro il Paceco per 2-1. Allo stato attuale alla fine del girone d'andata l'alta classifica è la seguente. Sancataldese 31 punti, Gela 30, Dattilo Noir e Paceco 29 si ritornerà in campo mercoledì 6 gennaio prossimo. La formazione di Totò Brucculeri se la vedrà sul campo del Raffadali. Adesso parliamo invece del campionato di promozione, una vittoria ed una sconfitta per le squadre gelesi. L'atletico Gela ha battuto per 2-1 in Licata grazie alla doppietta di Ascia, mentre il Macchitelle è stato sconfitto per 1-0 dal Palma. In classifica il team del tecnico Peppe Misiti si piazza al terzo posto con 26 punti in zona play-off, mentre i ragazzi allenati da Mirko Faustana naspano al quarto ultimo posto a quota 13. Il campionato dopo la pausa natalizia riprenderà il 6 gennaio. Buona la prima invece per il volley Macchitella. Le ragazze del team Bianco-Rosso tengono alta la concentrazione contro un avversario non proprio irresistibile. Sul parche di casa si è notato il buon livello tecnico delle ragazze di Mr. Margie, primo tassello di quello che si preannuncia un bel percorso di gruppo. Un 3-0 che ha visto i parziali 25-10, 25-14, 24-12. Non neghiamo che il salto di categoria è il nostro obiettivo, ma alla base del progetto ci sono le mie ragazze, non il mero calcolo matematico, ha dichiarato il mister a fine festeggiamenti. Il campionato riprenderà il 10 gennaio. In conclusione del nostro telegiornale vi ricordiamo che tutti i devoti che si accingono a preparare la tradizionale cena di San Giuseppe del 19 marzo del 2016. Dovranno recarsi presso la chiesa di Sant'Agostino per potersi registrare. Lo comunicano i padri agostiniani. E infine c'è l'informazione cinematografica. Il cineteatro antidoto Babbo Natale non viene da nord. Il film in proiezione. Vi ricordiamo gli orari di rotazione della pellicola 17.30, 19.30, 21.30. Lunedì 28 dicembre alle 21.00 la compagnia teatra l'antidoto porterà in scena Nabriscola, commedia in tre atti di Tiziana Guarneri, la regia e di Giancarlo Bella. Bene, questa era la nostra informazione di oggi. Teme a qui il nostro telegiornale. Vi ricordiamo che notizie e servizi e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale, all'indirizzo web www.tg10.it Vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato. Grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione. Buon inizio settimana a tutti. Grazie per aver guardato il nostro video.